E poi boh scopro che Bistard è andato a vedere le motocross a Maggiora Adesso comunque vi spiegherò bene il Todos Ragazzuoli prima di tutto volevo informarvi che questo video l'ho fatto puramente casualità Quindi se mi chiedete il significato perché ho caricato questo video non ve lo so nemmeno spiegare Comunque sia meglio caricare un video in più che un video in meno no? Comunque a parte le cazzate ragazzi se lo sapevate Bistard è andato a vedere le motocross a Maggiora Maggiora è un paese vicino al mio paese ma direi molto molto vicino Dato che io da qui dove abito io fino a Maggiora a piedi e dico a piedi ci metto 10 minuti Quindi sono praticamente lì vicino Praticamente Maggiora è attaccato al mio paese dove abito Purtroppo non ho visto il suo post sulla sua pagina facebook di qualche giorno fa Forse di venerdì scorso o sabato Prima dell'evento delle motocross che si è svolto domenica E praticamente dato che non mi sono informato che lui andava Maggiora a vedere le motocross Praticamente ragazzi io diciamo che lo sono venuto a scoprire dopo E quando l'ho scoperto a bocca aperta E ragazzuoli se appunto lo sapevo prima sicuramente sarei andato lì a Maggiora dove ci sono le motocross Per avere una foto e un autografo da parte di Bistard insomma Dato che è uno youtuber che punta su milioni di iscritti Un youtuber molto molto famoso in Italia E quindi perché no avere un suo autografo o una foto E ragazzi sono rimasto un po' lì quando appunto ho scoperto questa cosa Dato che nessuno o meglio quasi nessuno ha la possibilità di incontrare uno youtuber O comunque sia una persona famosa vicino alla propria casa insomma vicino al proprio paese Di solito per incontrare uno youtuber così famoso bisogna andare nelle fiere che programma lo youtuber Per appunto incontrarlo con un bordello di gente di fila di coda E ci devi anche aspettare delle ore prima di poter avere una sua foto o un suo autografo E non è detto nemmeno che appunto riuscirete a farlo Dato che le persone sono davvero tante Mentre io ho avuto l'opportunità di incontrare uno youtuber così famoso Quasi ad un milione di iscritti proprio vicino a casa mia E questa cosa diciamo che è buona da parte di un fan che segue quella determinata persona Purtroppo però me ne sono accorto troppo tardi Quando l'evento è terminato qualche giorno dopo E adesso purtroppo mi sono attaccato al cazzo ecco Comunque se ragazzi ripeto che questo video l'ho fatto per pura casualità Meglio un video in più che un video in meno Saranno contenti gli iscritti che si staranno annoiando Così potranno perdere altri 3-4 minuti in un nuovo video nel canale di Orc Verde Ragazzuoli che dire Spero che questo video vi sia piaciuto Commentate sotto il video con un vostro parere riguardante questa faccenda E soprattutto commentate con scritto cosa avreste fatto Se quella determinata persona che seguite da tanto tempo Il vostro idolo come lo chiamano molte persone Praticamente ha o comunque sia partecipa ad un evento vicino al vostro paese O meglio alla vostra casa Cosa avreste fatto? Se sareste andati di corsa ad incontrarlo in tutti i modi Per avere un suo autografo o meglio anche una foto Oppure ve ne sareste sbattuti amaramente i coglioni e niente Dato che ripeto Molte e dico la maggior parte delle persone Non hanno l'opportunità di conoscere una persona famosa Specialmente il loro idolo che seguono da tanto tempo Vicino alla propria casa O comunque sia vicino al proprio paese Detto questo ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate un like, un commento Iscrivetevi al canale Condividete questo video sui vari social network E da AllCover Tutto noi ci vediamo al prossimo video Bella